buongiorno ragazzi lunedì di pasquetta finalmente una bellissima giornata io alessia e luca mambo stiamo andando in un bel posto dove ci sarà tanta gente ci sarà da ballare ci sarà da mangiare ci sarà da giocare ci divertiremo un po più tardi vi racconterò questa è la pasquetta più bella degli ultimi anni un sole stupendo nel nostro salento a dopo dal flaco ciao ragazzi siamo appena arrivati un posto bellissimo faremo un tour la gente sta arrivando devo dire che è molto molto caldo e questo è il lunedì di pasquetta a dopo un movimento sexy un movimento sexy una mano in la cintura una mano in la cintura è Grazie a tutti 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 Grazie a tutti